Sorgerà l'Aquila a Bazzano nella zona industriale un nuovo impianto di produzione di pannelli solari che darà nuovi posti di lavoro, sarà la società Comal S.P.A. in sediarsi in città, la presentazione a Palazzo Margherita, la presenza del Sindaco Biondi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comal e di altri vertici societari. Il progetto prevede la realizzazione di un'impianta E-Tec per la produzione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza con un investimento complessivo di 16,1 milioni di euro, investimento diviso in costo del terreno e capannone, più l'acquisto dei macchinari necessari. L'impianto nascerà a giugno 2025 e creerà posti di lavoro, l'obiettivo è arrivare a 40 unità di personale in 18 mesi. La seta dell'Aquila perché noi siamo un gruppo molto affiatato, alcune persone del gruppo si sono interessate a questa zona, di fatti uno dei soci più importanti in Comal è proprio di questa zona e quindi si è interessato, ho trovato questo sito che abbiamo ritenuto importante e determinante anche per fare questo tipo di investimento, che è un investimento, come diceva lei, corposo, importante e quindi proiettato sul futuro. L'impianto è importante anche dal punto di vista delle energie rinnovabili per le aree interne per contribuire a ridurre la dipendenza energetica del Paese. Era presente infatti anche il senatore Guido Castelli, perché nel decreto energia c'è proprio un emendamento per facilitare le imprese in tal senso. Sì, noi abbiamo un obiettivo, quello di unire la ricostruzione e la riparazione sociale ed economica. Per farlo pensiamo ad un appennino centrale che sia anche anticipatore di tante misure e la transizione ambientale è fra i primi obiettivi che vogliamo agganciare. Da questo punto di vista con Next Appennino, il programma di finanziamento alimentato dal fondo complementare al PNR e Sismo, abbiamo voluto proprio centrare la fondamentale rilevanza della impresa, in particolare delle imprese che innovano. Ecco perché questo progetto per noi è fondamentale. Oggi salutiamo un investimento ampio, importante, cospicuo, ma ci sono decine e decine di aziende, di singoli che si sono messi in gioco e hanno deciso di scommettere sul territorio delle aree interne, sul territorio del centro Italia. Ne daremo notizia in maniera più diffusa più avanti, ma è sicuramente un ottimo segnale che fa il paio con gli indicatori macroeconomici sulla buona salute dell'occupazione dell'economia italiana dall'insediamento del governo Meloni ad oggi.